Non male, nel senso che per me è bene che ho giocato, però non sono andati bene i risultati, quindi bene, bene no. Però dal mio punto di vista sicuramente sono contento di rientrare a campo e dico che bisogna lavorare per mettere sempre più piedi al campo. Ora sto bene, sto lavorando ogni giorno duramente per arrivare e per stare bene, è la cosa più importante che quando il mister mi chiama io sono pronto e posso dare un contributo alla squadra. Sicuramente mi mancano le partite, fisicamente sto bene 100% e ora bisogna trovare la partita, però quello viene. Ero svincolato e stavo lavorando a Montecantini in compagni in estate sul mio recupero. Niente, Bari era la squadra che ho sentito che ci teneva di più e per me il passato era molto difficile, quindi mi ha dato una mano, ho visto che ci sono fiduciosi e per quello ho deciso di arrivare a Bari e ora tocca a me dare un contributo e una mano alla squadra e alla città. Non è che giochiamo su esterni per fare gol esterni, giochiamo per fare gol a un compagno che sta sempre in una posizione più giusta come in calcio, quindi dico sicuramente è ora importante che se non fosse loro, le prossime partite possono essere centri avanti. Sicuramente siamo delusi, non direi che abbiamo tradito, ma sicuramente siamo delusi dalla pestazione perché non era a nostro livello, alla nostra qualità. Sicuramente per quello è giusto che i tifosi forse sono arrabbiati, perché possiamo fare molto di più. Sarà una partita difficile, però alla fine il campionato può vincere ognuno contro ovunque, quindi sarà una partita difficile come tutta e noi dobbiamo prenderla bene, come stiamo facendo in casa tutto il campionato. Il mister sicuramente, penso tutti, non parlo solo per me e per la tua squadra, comunque anche lui ci sta dando tutta e per quello lo seguiamo. I rapporti sono come penso che devono essere tra un gruppo, tra un calciatore e un mister. Bisogna solo seguirlo, fare cose che vogliamo che facciamo e penso che abbiamo già dimostrato e dobbiamo imparare tutti insieme a fare ancora meglio.